ha fermato l'auto in una stradina di campagna in pendenza ed è sceso lasciando la madre dentro ma in poco tempo è avvenuta la tragedia la vettura sempre ovvisamente mossa da sola prendendo sempre di più velocità fino a cadere in un burrone purtroppo per la donna un 88enne non c'è stato nulla da fare morta sul colpo questa la terribile tragedia che è costata la vita la pensionata giuditta di pomponio che si è trovata per lunghi attimi a faccia faccia con la morte sulla dinamica dell'incidente sono rincorso le indagini delle forze dell'ordine che stanno indagando per capire se il freno a mano si sia disinserito per un guasto o se invece non sia mai stato inserito grazie a tutti